...comofobia e transfobia, sollecitato dalle ragazze, mi fa piacere anche ai ragazzi di prima, quindi ragazzi di 13 anni, che hanno forse più consapevolezza di quei politici netti che abbiamo. E vi leggo quello che questa mattina, una di queste ragazze di, che non è qui oggi, di prima, scrive, e guardo, nonostante le opinioni contrastanti, la libertà, un diritto fondamentale da ogni punto di vista, dovrebbe essere considerato fondamentale per la vita di ognuno. Tutti gli esseri umani dovrebbero essere istruiti ad accogliere le diversità e valorizzarle, considerando comunque ogni essere umano o uguale. Non penso di essere un idealista se credo che la libertà dovrebbe essere garantita ad ognuno, anche questa considerazione dovrebbe essere una realtà vivente e operante. Il prezzo della libertà è alto, lui è sempre stato, e per fortuna ci sono persone disposte a pagarlo. Valeria, grazie. 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 Grazie a voi. Grazie a voi.